benvenuti a tutti nella rubrica attualità nel mio canale perché una rubrica attualità per discutere surprise surprise dell'attualità e per attualità non significa semplicemente la quotidiana dose di catastrofi che ci somministrano i nostri politici il nostro governo ma anche di quei temi che sono meno trattati e soprattutto meno capiti da emilia tradizionali ed europa tema bistrattato ma anche la tecnologia i giovani i diritti civili le donne e futuro sostenibile la concorrenza insomma tutti quei temi di cui i nostri governi presi tra un bonus monopattino e un salvataggio dell'italia spesso si dimenticano mi potrete domandare ma perché su youtube è che ogni tanto i pochi caratteri di twitter o il trending topic di facebook non rendono giustizia alcuni di questi temi e quindi l'idea è proprio di creare uno spazio di riflessione non solo mio ma anche vostro che voi possiate commentare mettere like anche dire che non siete d'accordo aggiungere link insomma che costruiamo insieme una riflessione su questi temi quindi se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale commentate e niente si parte iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale